Allora, iniziamo questa seconda parte e avevamo intenzione di iniziare un po' così in maniera leggera, facendovi vedere il nostro video virale, visto che prima si parlava appunto di video promozionali e lo abbiamo realizzato con un videomaker olandese che è venuto a lavorare qui in Puglia e quindi abbiamo colto l'occasione. Poi si continuerà con Davide. Buona visione. Grazie. 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 Ciao, ci vediamo domani. Ciao. Quel video lì, se fosse su un canale YouTube loro o comunque voglio dire, tu questo lo potresti embeddare o usarlo per promozione. era creato anche su… quindi se sono pubblici su YouTube tu lo embeddi e ad esempio riesci a fare una cosa di questo genere. Un video del genere, durato qualche minuto, vale più di mille parole, ovviamente. Questo senza dubbio. Andrei un po' più veloce perché poi a parte dei social. Attenzione, attenzione, attenzione all'informativa sulla privacy. Correte delle… purtroppo io ho toccato con mano sanzioni anche di 8.000 euro su delle realtà dove collaboravo perché mancava il link al fondo di un form di richiesta informazioni per un servizio. Quindi 8.000 euro sanzionati. Quindi tutti i form, tutti i siti devono avere la normativa della privacy. noi utilizziamo… mentre siamo qua, ve lo apro, questo è il portale di cui vi parlavo prima, che è il portale per il travel. Noi utilizziamo… io lo uso anche per i clienti che ovviamente ci mancherebbe. La privacy policy di Ubenda, che è un portale che fa solo questo dal punto di vista della privacy. Un gruppo di legali di Milano è online e ubenda.it costa 20 euro, se non erro, all'anno, fino a una certa soglia è gratuito, cioè nel senso che se voi all'interno del portale dovete… scusate, all'interno della privacy la compilate tutta online, poi lui genera automaticamente questa pagina della privacy policy, ok? In funzione ovviamente di quello che voi gli dite che trattate all'interno del portale. Quindi la responsabilità è vostra nella dichiarare che cosa fate. Quindi io su Travel Advisor dichiaro che interagisco con i social network. Perché? Perché ho i tweet e i like di Facebook e di Google Plus all'interno degli articoli. Quindi la gente interagisce sui miei articoli e può renderli virali sui social. Questo va dichiarato ed è una funzione. Poi dichiaro che monitorizzo, faccio il monitoraggio del sito tramite le statistiche di Google Analytics e va dichiarato, perché c'è tutta la privacy legata poi a Google, dove loro poi ti rimandano, no? Poi dichiaro che gestisco i pagamenti con PayPal e quindi c'è tutta la procedura della privacy, ok? Quindi il terzo servizio. Poi dichiaro che faccio pubblicità, cioè faccio campagne di email marketing all'interno del sito, cioè parlo con chi si registra, che mi lascia la mail e ovviamente è pubblicità perché io dichiaro che posso comunicare anche terze parti, cioè sono sempre io che comunico, non cedo le mail a terzi, è sempre nostra responsabilità, ma posso dichiarare che c'è il servizio di amore per le liste nozze, tanto per capirci, ok? Quindi dichiaro una cosa che non è mia. Dopodiché, se voi andate a vedere la privacy policy completa, questa roba qua noi non abbiamo scritto una riga, cioè io ho dichiarato che cosa faccio e loro dal punto di vista legale mi, diciamo così, mi tutelano e mi redigono una privacy policy che è conforme alla normativa vigente. Ad esempio, qui noi siamo già andati a definire con un anno di anticipo quali sono i cookie che utilizziamo, non so se avete notato negli ultimi mesi quando navigate adesso viene fuori un messaggio che ti dice questo sito utilizza i cookie. Qui bisogna andare a dichiarare che cosa utilizzate, che cosa fate perché fra un anno quando questa normativa, noi anche ci siamo portati avanti, entrerà in vigore le sanzioni sono devastanti, decine di migliaia di euro. E quindi poi noi andiamo a dire tutti i riferimenti legali e quant'altro e a sua volta ci sono tutti i rimbalzi dei riferimenti legali su Facebook, su Google, su Twitter o quant'altro perché noi non saremmo stati in grado, mediamente cosa fa un utente quando ha un sito? Va sul sito del garante, copia e incolla la solita pagina che scrivono tutti, quella è assolutamente irrisoria, ridicola, non serve a nulla, cioè la privacy va gestita in un modo corretto e professionale. Questi fanno questo di mestiere e ripeto per delle cifre assolutamente, diciamo, compatibili con qualunque portafoglio. UBENDA, sono questi signori qua. Sì, però questo non l'ho citato, mi dispiace. L'ho trovato in calce a Travel Advisor, addirittura loro sono marchettari oriented perché quando ti stai leggendo la privacy di un altro sito ti dice genera la tua e vi porta qui sul loro sito dove addirittura qui vedi hai un www, inserisci il nome del tuo sito, clicchi genera la tua e poi inizia un percorso di domande di risposte e ti trovi la privacy policy generata, quindi c'è un link che devi dare al tuo webmaster e diventa un, diciamo così, un bottone cliccabile all'interno della tua pagina. C'erano anche i numeri, mi sembra che loro avessero generato finora 177.647 privacy policy, in più adesso stanno ovviamente sono di Milano, una società di Milano ma ovviamente ti danno anche supporto online con una chat e in più vi consentono di andare anche ad avere le privacy policy per chi ha i siti tradotti in lingua, quindi anche questo aspetto qua assolutamente molto interessante. Quindi quello che volevo soltanto dirvi è prestate attenzione alla privacy perché diventa veramente pesante, i controlli oggi ci sono perché ovviamente battono cassa tutto dove possono e quindi le sanzioni sono veramente tremende. Nell'ambito di tutto un sistema ecco che una piattaforma di newsletter, questo è il piede delle nostre newsletter, ti deve permettere di cancellarti con un click. Non manda una mail a mio nonno, metti nell'oggetto, disiscrivimi, fra 15, io ho visto siti di delle poste ferrovie, non lo so, che la sua cosa verrà processata nei 15 giorni dei comuni, una cosa delirante. Cioè il concetto è cancellami, click punto. Poi ci sono delle piattaforme, io non lo metterei, che vi danno la possibilità di introdurre quei form come la registrazione con il click di conferma, vi danno la possibilità di introdurre una pagina intermedia che non è proprio il massimo, che però è opzionale, che chiede come mai ti disiscrivi, ti ho fatto così schifo, ti ho trattato male, direi di vita. Però è molto interessante invece andare a leggere all'interno nel back office della piattaforma, perché la piattaforma te lo dice, chi è che si disiscritto? Perché quella è una mail con un nome, un cognome e quindi magari tu da lì capisci che quella persona che in realtà era una persona con cui dialogavi o era un cliente o quant'altro, probabilmente da lì capisci che è successo qualcosa. O anche solo banalmente perché erai scritto con tre mail alla vostra newsletter e stufo di leggerne tre e ne ha lasciata una attiva, non è sempre negativa la cosa. Qui noi non lo facciamo però, ed è un errore, sopra a questa click di cancellami, bisognerebbe sempre scrivere una frase per dire ricevi questa newsletter perché se ti sei iscritto, perché ci siamo visti in un evento e così via, ma ti ricordo comunque che se ti sto disturbando, qui sotto con un click non ci sentiamo mai più. Ok? E questo fa parte anche delle normative. Allora, newsletter, newsletter, faccio un esempio che mi ha colpito molto sul travel di nuovo. Safari da 1499, sempre i quattro punti escamativi, occasione unica, occasione unica per te perché magari a me non frega niente di Safari e poi... eh? E l'euro assolutamente no. Poi c'è una locandina sgranata, un'immagine, non si legge niente, è davvero una comunicazione pessima. Ho ricevuto una newsletter così per San Valentino che pubblicizzava un Safari. Capirete che è un altro film, eh? Cioè Leone, Leonese, queste... è sotto che ti dice fai una sorpresa per il Safari in Africa, cioè ragazzi qui siamo su altri pianeti, quindi proprio assolutamente altri pianeti. Stiamo promuovendo un Safari in Africa, quindi avete un modo con sette punti esclamativi di una roba che a me non me ne frega niente, mentre invece qua partite con un'immagine di questo tipo che al più potrebbe far sorridere, ok? Ma, voglio dire, ha un impatto completamente diverso. Dimmi. Ma erano due leoni, non erano un leone. Sì, sì, erano due leoni, infatti io lì poi non ho capito, però scusa, è vero, è vero, era già venuto fuori dall'altro convegno, no? Però, voglio dire, noi siamo... E' amore libero. Ma potrebbe essere, potrebbe essere. Potrebbe essere. No, 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 potrebbe essere. Tieni conto che ad esempio questa è un'altra, si arrivano tutte da fuori confine, questa è la newsletter, un weekend lungo per staccare. E quindi qui c'è, questo voi non lo vedete, ma è un pascolo. E quindi, come da dire, qui arrivi, non c'è connessione, infatti poi la mail dice quello. Quindi qui devi proprio staccare, ok? E come vedete l'impatto è completamente diverso, ti passano già quel messaggio e quant'altro. Dopodiché tu dici, no, io a Dubai voglio andare perché ci sia casino. Ok, va bene, ma non fa per te, ma... Ok? Ma è... Certo, assolutamente sì. In quel momento qui. Qui invece dovete dire che è fichissima, giusto? Bellissima. Perché ad esempio questa è una newsletter di un'agenzia specializzata nel diving a livello worldwide. Lei ha fatto una scelta marina di avere la testata e la testata del suo sito. Quindi chi riceve la newsletter vede BlueSpace, Diving Tour Operator, www e info. Ok? Come è il suo sito? E poi sotto... Vabbè, c'è... Scusa? Sì, la testata, certo, ti porta... la testata... Esatto, ti porta al sito. Le varie aree, una piattaforma seria ti deve dare la possibilità di cliccare anche le immagini. Quindi io qui ti potrei portare a una gallery, ad esempio, di quel diving. Ok? Oppure la landing. Non vorrei portarti alla landing su quell'immagine perché vuol dire che tu mi hai già perso e non mi hai più letto sotto. Preferirei che sia il bottone sotto che mi porti alla landing. Lì, in quel momento, non vorrei dirti... Cioè, poi vabbè, sono sottigliezze. Però ad esempio questo l'oggetto è Sudafrica, quindi... Ok? Bello secco. Due punti. Diving, safari o entrambi? Perché qui dentro abbiamo messo le due possibilità di fare solo diving o diving con safari. Quindi, con quattro parole abbiamo detto, ti porto in Sudafrica a fare del dive. Attenzione, il target è gente che fa sub, eh? Però, siccome sappiamo che lì dietro ci sono anche compagni, moglie, mariti, i due leoni, che ne sappiamo noi, che potrebbero non essere interessati solo ed esclusivamente al diving, io ti dico che c'è anche del safari. E quindi qui sotto c'erano i due pacchetti. Ok? Scusate. Un'altra, eccola. Quindi il pezzo sotto era così. Diving, safari più mare. Quindi le due immagini, di nuovo. Lassù, ma a mio modesto parere, poi il cliente fa quello che vuole. Lì, ad esempio, ci sono tre righe e il Sudafrica è un luogo geograficamente variegato, ricco di tutto, parchi, riserve, climaticamente. Secondo me è vero che la gente non sa che l'Egitto, l'Ebola e l'Africa sono delle cose diverse in realtà, mette tutto insieme. Però andare a mettermi quelle tre righe di geografia sul Sudafrica, secondo me, io ero bello caldo, Davide Safari sarà il partito da qui in giù. Qui ci sono voli da Milano-Roma, Safari quattro notti, ci sono proprio stringate, soggiorno, mare, quattro stelle, fronte mare, 1.639 più tasse. E poi c'è il bottone contattami o prenotano, scopri di più, quindi questo è il concetto. Però come vedi, ad esempio, per tornare al discorso di prima della landing page, questa struttura di newsletter, se io la immagino come uno scherito, leader e leader, c'è un intro, se c'è o non c'è, le foto le cambi, mi cambi il testo e il lavoro sono 10 minuti e un quarto d'ora. Ovvio le foto devono essere coerenti, però qui non si richiede una risoluzione, comprare una foto di giraffe a qualche centesimo la troviamo ovunque, mentre invece il diving a questa località magari me la devo far passare dall'hotel in quel caso. Ok? Sì, dobbiamo. Allora, dato che stiamo parlando, insomma, di cifre che non sono irrisorie e c'è tanta gente che è interessata alle caratteristiche, diciamo, naturalistiche o alle peculiarità di una città piuttosto che di un parco, dove metteresti le caratteristiche? All'interno cliccando sa fare più soggiorno? E quindi la gente deve capire perché è importante andare in quel parco piuttosto che fare immersioni in un luogo? Dipende da chi ti rivolgi. Qui c'è un target di persone profilate che fanno diving e che te lo vengono a spiegare loro, a te, il Sudafrica. Ma perché lei lo sa che questa utenza a cui si rivolge è un'utenza profilata di medio-alto livello che conosce benissimo, ha solo bisogno di sapere dove la porti e quanto costa e i contenuti. Sì, ma io come guida o come collaboratrice di Nutro Operator, devo dire, ai subacqui di Bari, se venite a Charm, a 20 metri già trovate le gorgonie. È un esempio, no? Dipende a chi ti rivolgi, perché ci sono subacqui che ce lo raccontano per filo e per segno a noi, c'è gente di prima battuta, in senso buono, ignorante, che non è mai andata a Charm e che ha bisogno di sapere quell'informazione. Quell'informazione, ragionevolmente, se tu qua inizi a scrivermi nella newsletter, no, l'informazione la metterei nella landing page dove in un link molto evidente potrei dire se vuoi approfondire quello che troverai qui, clicca qui per il dettaglio. A quel punto, siccome tu gli hai detto clicca qui per il dettaglio, io ragionevolmente ho voglia di leggere il tuo dettaglio. Poi ti prego di non iniziare per dire, Charmi fu creata dalla lungimiranza del fondatore, no, un ambiente naturale unico, punto, 8 milioni di specie di pesci, punto, no, soggetto, complemento oggetto, scusa, soggetto, predicato verbale, complemento oggetto, punto, a capo. Non come Totò, magari punto, punto, punto e virgola, no, però voglio dire poco ci manca, perché se no noi non siamo mai neanche traducibili in inglese, ad esempio, perché questo è l'altro problema, loro, i nostri giri pindarici per portarti a dire, oh, vogliamo da Roma, punto, costa 1.500, più le tasse, ti porto in questo 5 stelle, loro sono tutti inquadrati così, no, e attenzione che poi rientra il gioco nelle newsletter, ma rientra ovviamente in funzione del target dove tu vai sul sito, occhio ragazzi che poi ci sono le traduzioni, non ve lo dice mai nessuno, ma i contenuti costano e se poi dovete anche tradurli, costano il doppio, perché poi ci vuole un traduttore che non è Google, ma il traduttore è migliorata molto, però c'è sempre da ammazzare, diciamo che se tu scrivi come soggetto, predicato verbale, complemento oggetto, no, però diciamo che, ok, e attenzione il madrelingua certe volte non è neanche in grado di esplicitarmi un contenuto, perché lui se dovesse mai tradurre perché esporta la ceramica, è dura, perché il madrelingua di inglese, sì, sì, però bisogna vedere se entra nei concetti ed è in grado di rielaborare quel contenuto, cioè non è banale, questo è un altro costo che non ve lo racconta mai nessuno, perché è tutto un mondo meraviglioso quello del web marketing, un par di palle. Allora, alla fine non dimenticate mai ovunque nelle newsletter e così via le cose più banali, se avete un indirizzo come Santa Madonna posso venire da voi, ok, se poi c'è un link su Google Maps che già mi porta lì è una figata pazzesca, se siete in un posto devastante come quasi tutti i posti che io scrivo nel mio tomtom dove quel civico della Madonna non c'è mai, mai, non c'è mai, non c'è mai, il 18, ho trovato il 16, ti va bene lo stesso che poi certe volte non va bene, quindi se non siete raggiungibili su un navigatore, avete un esercizio commerciale, mettete dentro il sito, al piede della newsletter, dove nell'invito, dove volete, se hai un navigatore scrivi questa via, io tutte le volte la devo chiedere quando vado, dico scusi se la metto nel navigatore, la trovo, ah no, deve mettere via Rossi, 18, e poi giri la testa e ci trova, ok. Anche con gli smartphone è molto semplice, puoi condividere, cioè vai tu, attivi il GPS, ti metti davanti alla porta di casa, condividi posizione, e quella ormai è online, ed è facilmente raggiungibile. Ok, quindi a questo punto mi agevolate, se siete pubblici esercizi o quant'altro, ditemi gli orari di chiusura e di apertura, perché questa è una cosa fondamentale, così almeno so se vi trovo o non vi trovo, se siete un ufficio mi dite quando mi rispondete, no? Io l'altro giorno ho dovuto chiamare la SIAE a Torino, il disco mi diceva che comunque mi rispondevano fino alle 17 nel pomeriggio, premi 1, premi 2, poi il disco diceva che comunque non c'era nessuno, quindi vuol dire o il disco era fallace o erano scappati tutti, però voglio dire, sono informazioni diciamo talmente elementari, talmente stupide, che però peccato che noi non trasmettiamo mai. Telefono, sky, cellulare, perché magari qualcuno è un libero professionista e magari non ha fissi, non ha trasferimenti di chiamata. Un'email per i contatti, ecco sarebbe meglio, molto gradito, anche graditissimo dai filtri antispam che se voi quando prendete un nome, scusate, quando prendete una mail opzionale, prendete anche un nome, anche solo il nome di battesimo, cioè i due campi obbligatori sono nome e mail, tante piattaforme di newsletter vi consentono poi di utilizzare quel nome anche all'interno del corpo della newsletter, cioè voi avete recuperato Mario e la mail. Quando impostate la newsletter potete scrivere carissimo, per cento, generalmente c'è una simbologia, per cento, nome per cento e quelle newsletter diventano carissimo Mario, carissimo Piero, carissimo Antonio, cara Maria, ok? Che comunque, insomma, è anche un approccio, pur essendo un invio massivo, è comunque un approccio più, diciamo così, personalizzato. Io metterei quasi ovunque dei link al sito, ci sono certe newsletter che dici, vabbè, è fighissima sta roba, e mo' devi fare taglia in colla e andarteli a cercare su Google. Questi sono in diciottesima pagina perché hanno un sito indicizzato da fare schifo e quindi fai anche fatica a trovarli per chiamarli, cioè è delirante ma è così. Molto visibile la call to action. Attenzione che qui c'è tutto uno studio sui colori, noi ad esempio utilizziamo molto l'arancione perché pare, cioè ci sono dei colori che invitano, c'era un'infografica molto bella, ci sono dei colori che invitano di più a fare determinate azioni, ovviamente cosa fanno? Degli studi, mandano via un miliardo di mail, statisticamente guardano, cambiando la tipologia dei colori e il layout, quelle che rispondono meglio. Tutta statistica ovviamente, non c'è una regola ovviamente data da... un'ottima visibilità e poi mettete i link ai social, ovviamente se i social ci sono, perché ad esempio potrebbe essere interessante che magari loro cliccando lì sopra diventano fan di pagina e quindi avete un altro canale dove li avete ingabbiati e li tenete sempre sotto. Allora, io le uso più o meno per lavoro tutte, tanto avete le slide, quindi è inutile che... Mail app è l'unica italiana, fino a pochi mesi fa che non aveva beer lo strumento per la composizione semplice della mail, la trovavo piuttosto non tanto banale dal punto di vista utente. Mail app, la nostra italiana, non era banale, è una piattaforma completissima e l'unica che lavora a livello economico viene venduta a banda, cioè voi non comprate 10.000 indirizzi, 100.000 invii, comprate della banda. Voi sapete che con la pezzatura minima, che mi sembra sia 300-400 euro all'anno, avete credo invii limitati, numero di indirizzi anche illimitati, però lui per mandare una newsletter ci può mettere anche 3 giorni, perché se la volete più veloce dovete aprire il rubinetto, pagare di più e avere più banda. Sono gli unici a lavorare così, se uno non ha esigenza, un negozio, solo domani 50% di sconto, non è che può arrivare 4 giorni dopo, se è solo domani, ok? Quindi guardate, verificate, anche in funzionamento, vi danno 30 giorni di prova, quindi... Ma la prova ve la danno tutti, quindi non ci sono problemi. MailerLite, di questo gruppo di ragazzi dell'Est, l'ho trovata qualche anno fa, era un embrione, oggi è una piattaforma secondo me spettacolare dal punto di vista costi, prestazioni e benefici. Sì, assolutamente. MailerLite, credo che tu abbia 10.000 indirizzi, 10.000 nominativi, invii limitati a un centinaio di euro all'anno. La composizione della mail è da lacrime agli occhi, proprio, è veramente drag and drop. Questo non vuol dire che vi esaltate e diventa una roba veramente devastante, no. Però è drag and drop, veramente ottima dal punto di vista dell'usabilità. Se caricate, come tutte, se caricate un indirizzo la prima volta massivo da Excel, vi chiedono da dove arriva e dovete carteggiare con loro, perché caricate 1.500 indirizzi, loro ti dicono, vabbè, e dov'è la privacy policy, dove li hai presi, chi sei, cosa fai, e iniziate a carteggiare. Siamo in streaming, non vi posso raccontare i trucchi, il trucco ve lo racconto quando spegniamo la offline. MailChimp probabilmente è la numero uno al mondo, MailerLite è ancora abbastanza acerba, ma per il 99.9% delle imprese, delle PMI italiane è sovradimensionata, anche per non le PMI, per quello che mi tocca leggere coprirebbe anche le multinazionali, ammesso che ne esistano in Italia, mentre MailChimp è il top di gamma, fino a 2.000 indirizzi è gratis, per sempre, cioè per adesso è gratis, poi dovrebbe risultare per sempre, come? In via illimitata. Dopo 2.000 indirizzi non è cara, ma insomma MailerLite è meno. Poi facciamo un salto di qualità, qui andiamo su piattaforme Contact Lab e Contacts Contact USA, diamo su della roba per banche, assicurazioni, però alla portata anche di aziende normali, non è che perché le usano questi big, questi colossi, come i grandi quotidiani o quant'altro, non si possono usare, ci mancherebbe altro, i prezzi qui salgono abbastanza, certe volte anche notevolmente. Comunque con queste vivete non sonni tranquilli, proprio tranquillissimi, ok? Diciamo le domande le abbiamo già fatte, vogliamo sull'altra parte, perché poi mi sarebbe piaciuto, se fosse stato possibile, adesso dove mi ha messo la... Parliamo dell'altro lato della medaglia, che poi in realtà l'altro lato non è, perché se non c'è un'integrazione probabilmente la comunicazione oggi ha poca ragione di esistere, il titolo è abbastanza provocatorio, tutti mi chiedono se i social servono per vendere, la mia risposta è non è detta, ma anche no, ma anche no, anche perché dovremmo scoprire perché sono nati e a quel punto se scopriamo perché sono nati ci siamo già dati delle risposte, però essendo un sistema di relazioni è impossibile non gestirlo, ok? Sempre seguendo Francesco, rimaniamo su un livello human, no, umano, smarchiamo quelle 5-6 cose che sono devastanti oggi, che purtroppo si vedono, entrate nella logica che questo, il sito, diamolo per scontato, che è un lavoro, ma questo è un lavoro, l'email marketing è un lavoro, essendo lavori gratis non possono essere fatti, hanno un costo, devono rientrare in un budget aziendale, se non avete il budget lasciate perdere, ok? Quindi poi, nel 99% dei casi, noi le ultime due mail che abbiamo ricevuto, siccome noi come azienda, barra consulenti, abbiamo un gettone da giocarci con le persone, è inutile che noi andiamo a pinzare mille euro in un anno, supponiamo, a un interlocutore, quando sappiamo benissimo che quella roba lì è totalmente inutile. Noi preferiamo dire, c'è gente che si offende anche perché dice che noi non prendiamo come clienti perché valiamo troppo poco, allora voi non ci volete. No, è che troverai tanto qualcuno che te li spilla dal portafoglio, ma è quasi un furto, perché non porta a niente. Cioè, vi faccio un esempio brutale, se io voglio andare a fare una campagna AdWords, qualcuno ha mai fatto campagna di pubblicità su Google? Ok, se non mettete dei budget consistenti, allora, se volete dirmi, Davide, vorrei giocare, provare a vedere, perché mi puzzano 100 euro al mese, so benissimo, ma me lo dovete mettere con una raccomandata o una PEC. Mi dite, mi puzzano 100 euro al mese, voglio provare per tre mesi, perché non so cosa farmele di questi 300 euro. Siccome volevo dargli fuoco, voglio provare a giocare con AdWords. Ok? Allora, a quel punto, non è neanche detto che io vi segua, ma, buh, tanto voglio dire, riprende Google e quei soldi, oltre al nostro lavoro. Però, ripeto, su Facebook è la stessa cosa, sulla campagna di email marketing, ma non è tanto, perché tanti ti traggono in inganno dicendo che una piattaforma costa un centinaio di euro, un centinaio di euro, ragionevolmente, se non li hai, in un anno, hai ben altri problemi. Ok? Perché se uno ha un'attività e il blocco è 100 euro all'anno, direi che la comunicazione è l'ultimo dei problemi, eh? Ce ne sono altri. Se abbiamo scollinato quei 100 euro, quei 100 euro sono oggi una goccia, non esiste rispetto al lavoro da fare qua sopra. In teoria dovremmo passare qui, io starei volentieri, è una settimana qui, adesso ho già ricevuto altre 18 trattorie di andare stasera alla Bari Vecchio, quant'altro, in realtà dovevamo parlare dei social, quindi dovevamo magari fare un channel su Twitter, su Pinterest, su Google+, su Instagram e così via, però gli ho detto, Francesco, facciamo un purpurri di roba, non ha nessun senso, piuttosto molto volentieri, torniamo tematicamente, io ritorno non volentieri di più, ne affrontiamo uno e lo svisceriamo tutto. Parlare genericamente di tutto? No, allora abbiamo ovviamente puntato su quello dove ormai ci sono tutti e tendenzialmente vediamo qui sull'amico Mark, che diciamo non se la passa male ultimamente, che cosa possiamo fare e soprattutto vi prego non fare. Allora, questa è la massima che io porto in giro su tutto il territorio nazionale, ovunque voi siate, un'assenza discreta, tra virgolette sabaudano, sapete che noi siamo basso profilo, understatement, abbiamo la città in sold out, ma non lo diciamo, perché se si viene a sapere poi è un casino, ok? Bene. Che è una presenza ridicola, ok? Questa è una premessa fondamentale, anche perché non è che il dottore della mutua vi ha obbligato ad avere una pagina social, è che si è obbligato, ok? Non c'è un obbligo morale, un obbligo, ok? Non avete una diminuzione dell'IRP, si può continuare a vivere lo stesso, ok? Il rischio è questo. La mitica mia collega, nel senso che fa un mestiere glisco marketing, non si legge questa sua locandina di Veronica, ma è bellissima, gliel'ho rubata ovviamente, poi su Facebook gli ho detto ti cito, lei dice, ha messo fuori il manifesto della social euforia, è bellissimo, questo manifesto ve lo leggo perché è illegibile, stato di esaltazione psichica, poi lei è molto brava, oltre che essere una donna, una ragazza bellissima, derivante dalla presa di coscienza dell'importanza dei social network per la propria attività. E fin qui. Però avete aggiunto, lei ha già aggiunto l'esaltazione psichica, eh? Che non è banale. A causa di questo stato temporaneo di felicità, si tende ad aprire un account aziendale per ogni social network esistente, o comunque una quantità di account social che poi non si è in grado di gestire nel tempo. Finita la fase di esaltazione, gran parte di questi account persi vengono abbandonati, e quindi, oppure seguiti discontinuamente. La social euforia, se la conosci, la eviti. Quindi, quelle famose mail, quando, ogni tanto, qui siamo nello stesso film. Apertura della pagina aziendale, 8 milioni di post quel giorno di apertura, perché esaltati al massimo giù, foto, immagini, gli alberghi e così via, e poi, l'ultimo post pubblicato, ottobre 2013, che tu dici, saranno falliti, perché la prima cosa che si chiedono è, saranno falliti, staranno bene, starà bene la signora, no? Sono le solite cose. Quindi, la presenza in rete ha un senso, se e solo se c'è un progetto di comunicazione. Quindi un pezzo lo fa l'email marketing, un pezzo lo fa il sito, insieme all'email marketing al sito, c'è il concetto della landing page, dove devo catturare proprio l'azione, cercare di tradurre, e poi vediamo la fonte Vincos, un professionista molto serio, che studia questi fenomeni virali e social della rete, ha un blog molto interessante, da cui si evincono degli spunti notevoli. a mio parere non è cambiato nulla quando io ero giovane tanti anni fa. Questo è soltanto il bar dello sport. Però, mentre la... e diciamolo, la minchiata del giorno rimaneva circoscritta al bar dello sport, al bancone e così via, questa minchiata del giorno ha un effetto virale devastante, e quindi viene propagata in rete, e voi siete molto spesso coinvolti nella condivisione di bufale, che girava qualche mese fa, pubblico sulla mia bacheca, che Facebook mi ruba le cose... Abbiamo firmato tutti un contratto, è tutto suo, non è niente... tutto suo, tutto, tutto, se non ti piace l'unica cosa che puoi fare, l'oblio, esatto. O vai nelle impostazioni e dici che poi, se vai a leggere bene, il cancella non è un andelita ritroso, eh? È tutto da verificare, ok? Quindi questa è l'esaltazione del bar dello sport del terzo millennio, ok? Solo che in alcuni casi fa anche dei danni, eh? Eh, mica da ridere, eh? Allora, i numeri non siamo aggiornatissimi perché siamo quasi a un anno fa, ma siamo più o meno questi, sono 24 milioni gli utenti registrati, se andate su Vincost lo potete vedere, la mappa è molto interessante, siete 240 mila in Puglia, questi numeri diventano interessanti nella misura in cui voi vi muovete, perché la pubblicità oggi su Facebook, che funziona benino su certi settori, può essere localizzata. E allora per... geolocalizzata. E poi ci saranno delle novità che non so se avete letto, clamoro, abbastanza clamoro. Alcune parzialmente, altre molto clamorose che dovrebbero arrivare perché sono già in test negli States. Quindi è importante per qualcuno del Lazio, scusate, sapere che ha un target di 2 milioni e 600 mila persone, mentre la Puglia si muove a 240 mila. Però sono dati vecchi perché l'ultima campagna che io ho fatto su Torino mi dava più di 600 mila utenti registrati. Cioè non ho messo profili, ho detto tutti, no maschio, femmine, età, niente. L'Ineri porta 500 mila, quindi può darsi che questo numero sia salito di qualche milione negli ultimi sei mesi. 17 milioni sono quelli connessi ogni giorno, quindi quelli come me e 15 milioni, quelli come me, ogni giorno lo navigano qua sopra. Perché l'app ad esempio su Android è molto più performante che non navigarlo da web, io navigo quasi esclusivamente qui. 15 milioni che almeno una volta al mese per rispondere anche a lui lo usano da tablet o da smartphone. Mentre 10 milioni accedono quotidianamente. Una crescita impressionante, riporta Vincos, se si considera che i mobile user erano 7 milioni e mezzo mentre adesso sono 15 milioni. In due anni sono raddoppiati. Torna tutto con il numero delle ultime prove che ho fatto di quella newsletter dove il mobile sull'end user mi sta superando il... Sì, ragazzi, qui sono passati mesi, eh? Fa abbastanza impressione. I 60 secondi non ce lo facciamo, però guardiamo cos'era. Erano in 60 secondi 1 milione e 800 mila like, quindi con... Diciamo, io vedo che qualcuno ha fatto qualcosa e 209 mila foto pubblicate in un minuto che sono un numero. Che però, se pensate, adesso voi non potete capirlo perché, voglio dire, non avete la mia età, ma era quando frantumavate le pelotas all'amico, tornando dalle ferie, e gli facevate vedere quelle diapositive e lui si addormentava, si schiantava sul... È uguale. Solo che voi facevate vedere le diapositive a quel ristretto gruppo di amici che poi a un certo punto non veniva più a casa vostra, il problema è che adesso le vedono 7, 8, 10, un milione di persone. C'è il filmino del matrimonio? E non mi hanno... Gli ultimi due... No, no, da noi non tanto più perché negli ultimi due matrimoni non mi hanno più invitato. Hai ragione, c'è il filmino del matrimonio. Tieni conto che con un'applicazione come Amore è online. Mandi solo più i link agli amici. Allora, andiamo giù, belli piatti, in concreto. Non potete fare una scelta. Voi siete delle persone e avete un profilo personale. Le vostre aziende hanno un profilo aziendale. Non è una facoltà che voi potete... Ah, ma io faccio il profilo personale allo spaccio d'azienda perché così mi faccio gli amici e è più facile raggiungerli e così via. In questi giorni, barra mesi, barra settimane, stanno chiudendo decine, centinaia di profili. Hanno un algoritmo molto sofisticato. Nel travel ha fatto una strage. Nei gruppi chiusi di Facebook dove io sono dentro per lavoro e non all'interno nel mondo del travel sono sparite decine, centinaia di profili che erano nome, agenzia, cognome viaggi. Ristoranti, nome ristorante, cognome da giuglio. Chiusi, dalla sera alla mattina. Ok? Perdete tutto. Adesso vediamo qual è il motivo. Se per caso qualcuno di voi ha un profilo personale, come poter ovviare a questo? condividere invece un posto, una foto, quello che è del profilo aziendale su quello personale, quello va bene. Sì, come si dice in piemontese, D'Usman, cioè dolcemente, nel senso che analizzano anche i profili reali, Mario e Rossi, con contenuti prettamente, solo ed esclusivamente, marchettari, locandine, pubblicità. Ok? Esatto. E chiudono anche questi profili. Quindi, io ho un profilo personale e metto solo locandine della mia attività. Ok? Lui non reputa questo profilo interessante nell'ambito della condivisione mondiale, globale, dei contenuti e quindi dice è vero che sei Mario Rossi, ma stai comunque violando le regole e quindi ti chiudo. Ok? Arriva un messaggio di questo tipo, ne sono arrivate a decine di migliaia, quando arriva, perché alcuni mi risulta che sono stati chiusi senza questo messaggio, converti il tuo diario in una pagina. Sembra, perché poi sono anche molto eleganti, sembra che tu stia usando il tuo diario per rappresentare un'organizzazione, un'azienda, un marchio o una figura pubblica. Ti ricorda che i diari bla 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 e ti mette il link primi passi per fare la conversione. Molti nel travel non l'hanno fatto e hanno azzerato 5, 6, 7, 8 anni di esistenza social. Quindi, shit, puff. Come dice quello di Zelig, sì signore, svampato. Ok? Non c'era più. Quindi, torniamo a bomba. Non è una, dici, io scelgo. No, tu non scegli niente perché è una privacy policy, tu puoi solo fare così e quindi la pagina non è una scelta. Questi sono tutti i miei amici. Io ultimamente non accetto più amici da profili che non sono persone. Una volta lo facevo. Questi sono gente che io ho avvisato. come vedete è Innovation Viaggi. Innovation nome, viaggi, cognome. Non sono pagine perché è possibile farli amici. Nicola dell'Abruzzo l'ho avvisato ieri, non sapeva niente, adesso devo mandargli le note per la conversione. Lui che tratta benino il suo profilo è un peccato, perde tutto. Anche a Z invece non è più un profilo è una pagina. Se nel frattempo avete già aperto una pagina e avete ancora un profilo personale, tenete presente che nel profilo personale, questa è la videata che vi porta dentro quando fate la conversione. Vi chiede se siete un'impresa, un'azienda, un marchio, un prodotto, cioè vi chiede che cosa siete e da lì in poi è tutta una procedura guidata. Trovate anche il link nelle slide, quindi avete anche questo link. Attenzione che trasforma gli amici in like e ci sta perché gli amici se vi hanno dato un'amicizia ragionevolmente potrebbero essere quelli che potrebbero continuare ad essere interessati a ricevere le vostre informazioni. Peccato che la frequenza poi la vediamo sia da 1 a 10 10% poi vi spiego cosa vuol dire. Eh, che comunque non è banale. Certo. E poi se fai un invio massivo poi ti blocca il profilo per un po' di ore. Allora tenete ancora presente una cosa come dicevamo prima lo metti nello status? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Tenete presente che se nel frattempo avete già fatto la pagina aziendale e quella non sale perché ha un centinaio di like e da qui avete ancora il profilo come il mio amico Nicola di Cucurbeo Viaggi che ha metti mille amici lui può comunque trasformare quella pagina in Cucurbeo Viaggi 2. Poi si ritrova due pagine e può fare il merge di due pagine in una qui è come camminare sulle uova quindi bisogna farlo ragionevolmente ci arrivo subito è sì noi abbiamo fatto rifaccio la domanda la faccio io io siamo riusciti a farlo su tre pagine su una pizzeria allora aveva il profilo scusa un classico aveva sfondato i 5.000 amici e quindi siamo in Toscana aveva il secondo profilo fake ovviamente con un migliaio di nuovo e siamo arrivati a 6.000 si è aperto la pagina l'unica cosa saggia che ha fatto e aveva però 100 allora la pagina l'abbiamo lasciata abbiamo fatto il primo migrazione profilo 1 in pagina 1 profilo 2 in pagina 2 con nomi simili poi siamo andati il trucco è in pagina 3 scusami l'unica pagina esistente a dargli il nome vero poi devi andare in tutti i possibili campi la descrizione il link il sito e così via e fargli trovare quasi tutto identico e sarebbe meglio no meno perché rischi che te li e poi non te lo faccia più fare e poi a quel punto abbiamo fatto il merge ha funzionato abbiamo recuperato 6.000 più i 100 like della fine è il più possibile noi abbiamo la similitudine mi chiedeva che livello è è il più possibile cioè la descrizione della pizzeria uguale gli orari di apertura uguale le mail uguale il telefono uguale per fargli vedere che lui era anche fortunato perché si chiamava pizzeria da Gino pizzeria da Gino 2 e la pagina era la pizzeria da Gino quindi loro hanno dei sistemi molto sofisticati nell'andare a fare queste comparazioni e da noi ha funzionato quindi conviene farlo molto simile comunque molto simile anche il titolo assolutamente perché se no non te lo legge assolutamente se no potrebbe essere allora se noi avessimo perso quella da mille pazienza mi rimaneva quella da 5.000 se avessimo perso quella da 100 il problema non sussisteva anche perché quei 100 ragionevolmente che avevano messo il like nella pagina di sicuro erano contemplati nei 6.000 questo di certo però ha funzionato molto spesso attenzione che non vengono voi lo sapete non vengono tu lo saprai non vengono migrati contenuti nella pagina aziendale perché? e beh perché forse è anche un bene perché non arrivano le unghie non arrivano i gattini non arrivano cippa cippa micio micio mao mao e quindi voglio dire se quella è una pagina aziendale non vi trascinate dentro della roba che sarebbe anche abbastanza imbarazzante farla passare per un contenuto di valore per un'azienda ok? quindi perdete tutto ricominciate da capo ad esempio nel mondo del travel invece perdere tutte le foto io ho delle agenzie che hanno perso hanno perso perso foto molto belle di clienti da viaggio di nozze e quant'altro e quelle con un po' di pazienza uno se le fa rimandare in qualche modo le ricade cioè quello si il backup è qui questo si va nella pagina setting poi a un certo punto fai scarica una copia dei dati di facebook e poi te la tieni lì infatti su questo ci sono già decine di post e uno dice va bene adesso mocio il backup questo backup funziona solo quando hai dei problemi che ti viene chiuso il profilo allora tu devi andare a argomentare come mai come perché o quant'altro avere un backup è sempre però non è un concetto di backup per poi andare a riversare dentro una pagina no perché figurati non te l'avrebbero fatto fare prima ah non è una prova eh è irreversibile eh cioè non è che poi gli dite Mark ho sbagliato rifo e ritorniamo a ristorante nome pizzeria no non funziona esiste la possibilità di unire pagine molto simili nei contenuti in un'unica pagina fatta questa premessa partiamo allora la pagina non è una vetrina in bianco e nero il potere delle immagini è impressionante se io vi racconto un po' di case history c'è da non crederci io ho aperto pochi mesi fa pagine barra video sì 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 poi torniamo a bomba il video di chi è come perché mi crea valore mio cioè ripeto è un bel casino cioè nel senso tutto costa io ho aperto una pagina per una sperimentazione ma perché era in famiglia loro non lo sapevano neanche ho aperto la pagina più inutile che si possa aprire nell'ambito di un'attività a mio parere commerciale su facebook ho aperto la pagina di un'agenzia immobiliare perché è inutile vendo case nella provincia nella collina di Torino ok come posso individuare cioè a chi interessa una casa a tutti a nessuno giusto una casa una casa ha un valore cioè no cosa faccio faccio un post lo sponsorizzo ah premessa fondamentale mentre voi cazzeggiate gattini unghie amenicoli vari e quant'altro come profilo personale e raggiungete raggiungete i loro algoritmi sono molto sofisticati secondo me anche nel male perché arriva sulla timeline come si dice in gergo tecnico dei vostri amici rapportando in un rapportando tutto ciò nella misura in cui voi condividete parlate con queste persone tramite il sociale cioè io vedo quasi sempre nella mia timeline nel 90% dei casi i contenuti degli amici con cui interagisco io l'altro giorno che ho fatto un po' di pulizia etnica ho trovato persone che non ricordavo sono entrato nel loro profilo loro continuano a pubblicare più o meno roba ma io non li vedo da anni perché né loro interagiscono con me né io interagisco con loro io ho quelli proprio dei 18 milioni di foto cioè non perché il gatto è una roba meravigliosa però se tu mi pubblici solo le foto dei gatti cosa il mangiare i piatti foto gatti mangiare i piatti cioè o gli aforismi no cioè è che ne avrai due palle e non ho voglia più di seguirti allora non è che ti tolgo l'amicizia e metto nascondi ecco questo lo fanno in tanti questa roba qua fa sì che tu continui a dialogare e questo probabilmente è un male dal punto di vista con sempre con le persone che interagisci quindi è un falso quello che vi dice ah ma io avevo 5.000 amici che mi leggevano no non era così mentre adesso i numeri della pagina invece sono drammatici perché sono tracciati tramite gli insane cioè le loro statistiche e mediamente un post raggiunge quando siete bravi e molto fortunati barra fortunati un 10% dei like se non pagate io ho dei post dopo se volete lo guardate cioè il primo che che sviene che muore che si accascia andiamo via però ripeto se avete poi ancora 5 minuti possiamo guardare una pagina vera i numeri sono drammatici io ho raggiungimento fatto mille ne raggiungo 100 quando va bene senza sponsorizzare quel post e gli altri 900 me li perdo ci dobbiamo fidare certo è che non ti dice secondo me se sono 150 forse è meglio che ti dica 100 perché ha bisogno del tuo urino però ragionevolmente mi auguro di sì mi auguro di sì mediamente mi auguro di sì quindi non è assolutamente vero che prima raggiungevate però ci sono ma non vi è mai capitato l'altro giorno ero al supermercato incrocio il mio ex compagno delle superiori che mi blocca mi fa è una figata tutte le cose che metti noi non interagiamo quasi mai a livello di like poi ritorno sull'immobiliare non interagiamo quasi mai a livello di like lui è un professore di economia e commercio mi dice ma sai che mi segno tutte le manifestazioni che metti nelle langhe così eravamo alla cassa e io gli ho detto Riccardo ma e quindi mi fa le leggo tutte l'altro giorno sono anche andato dove mi hai detto io non ho detto niente ho linkato questa cosa da fiera internazionale il tartufo di alba quindi ma non è la prima volta che mi accade anche con quelli con cui non si interagisce non so per quale motivo è probabile che vada ad analizzare il fatto che pur non mettendo like la persona che ha interagito con me cioè questa roba qua è da brivido è andata ad approfondire l'articolo quindi ha cliccato quindi per facebook io ho messo un articolo importante per lui certamente perché lui è andato ad approfondirlo non ha messo like non ha fatto condividi quindi non ha fatto effetto virale positivo dal mio punto di vista l'ha fatto per lui e lui continua a ricevere i contenuti che io pubblico un retargeting esattamente identico però è subdolo perché non lo vedi cioè mentre io adesso ho comprato quattro gomme da neve e ne ho due palle piene perché ovunque dove vado sono pieno di gomme da neve di pubblicità che il retargeting è di una pericolosità bestiale perché io ho un certo ad esempio mail app ha smesso perché diventa poi fastidioso diventa spam diventa invasivo questa è la cosa dei cookie della ok il retargeting diventa veramente odioso quello di facebook tu non lo vedi proprio lavora nell'ombra torno all'agenzia immobiliare apro questa pagina totalmente inutile a mio modesto parere e inizio a pubblicare la landing page la landing page era ovviamente l'immobile sul sito di proprietà ok quindi neanche una landing rispondo alla domanda prima della signora la landing page in quel caso lì non era stata neanche creata ad hoc cioè l'immobiliare mette dentro una scheda prodotto quindi mette dentro un viaggio mette dentro un'offerta speciale della ceramica mette dentro qualcosa la landing page diventa quella metto sempre la foto più bella do disposizioni di fare una foto di impatto dal punto di vista anche solo un particolare della casa se la proprietà non vuole che venga messa fuori o di un esterno giardino piscine o quant'altro ve la faccio breve e poi intercalo nelle pubblicazioni che vado a mirare spam su Pino Torinese per 20 km Chieri per 20 km sto parlando dei paesi della collina di Torino Torino per 50 km quindi vado a sparare direttamente poi voi sapete che le pubblicità possono essere non so se lo sapete scusate possono essere indirizzate per interessi quindi io comincio a dire mandale solo a quelli che vanno su guida sposi perché se vai su guida sposi probabilmente ti devi sposare ammesso che tu abbia quattro soldi da parte o che qualcuno ti aiuti probabilmente hai anche di conseguenza in testa una casa vai su quelli che seguono immobiliare.it perché se navighi immobiliare.it casa.it probabilmente stai cercando e in più introduco delle notizie che prendo dal sole 24 ore o da altre terze parti su l'andamento dei mutui le valvole termostatiche come fare il bonus del 50% delle cose e quant'altro l'interazione sulla pagina continua ad aumentare notevolmente i like sono ridicoli 150 ok non ho fatto campagne per acquisire like ma non quei like finti di bura bura no cioè non ho campagne proprio mirate serie per acquisire like non ne faccio parto con i 150 ve la faccio brevissima l'interazione continua a diventare sempre più alta pubblico una foto di una casa con una piscina ricevo 80 mi piace su questa foto della piscina arrivo di questa di queste immagini prendo centinaia di accessi al sito a quel punto faccio modificare il sito perché nella home del sito faccio portare le case più marchetta quelle che hanno più necessità di venderle il colmo dei colmi è che uno in ferie da Roma mi chiede al titolare dell'agenzia un appuntamento ad agosto perché quando tornava ha visto la casa con la piscina quindi questa pagina a oggi ha scatenato sei appuntamenti sei appuntamenti vuol dire che se per disgrazia vendono un immobile io ho un budget eventuale per diciamo togliermi qualche soddisfazione e vedere che cosa succede a mettere mille euro e coprire tutta Torino no? era una pagina che non avrei fatto neanche se voi mi avesse dato dei soldi quindi certe volte se non si fanno delle sperimentazioni non si può capire anche dove si può andare a parare ovviamente tutti i post sono mediamente sponsorizzati di 4-5 euro 3 euro 10 euro 12 euro tenete presente che scendere sotto i 20-30 euro al mese è abbastanza ridicolo però voglio dire con una trentina di euro al mese una cinquantina di euro al mese si ottiene una viralità e una condivisione ah è giusto le ultime due sono credo una lei che tagga lui immagino mette proprio il nome per fargli vedere un immobile e poi sul sito dell'agenzia è arrivata la mail di questo signore per la richiesta informazioni quindi la moglie è fidanzata o quel che sia compagna vede l'annuncio lo tagga mette lui poi probabilmente si saranno anche parlati e lui ha mandato la richiesta di informazioni dell'immobile serve a vendere? non lo so no forse no sicuramente serve a creare un sistema di relazioni il potere delle immagini nell'ambito di questa pagina è assoluto e devastante assoluto cioè dove c'è un'immagine quindi le pagine non sono così non sono locandine in bianco e nero non sono questa roba qua voi attenzione voi la vedete male ma in realtà è proprio brutta così cioè in Marsalam agosto due cose è una locandina che mi ha colpito perché non è neanche leggibile cioè dovresti andare in opzioni scarica ma secondo voi la gente va in opzioni scarica ma che cosa state dicendo ok qualunque attività abbiate voi state parlando con delle persone normali con degli umani quindi evitate FCO fiumicino PAX full board se siete ristoratori cioè coupon parlategli come si mangia cioè nel senso che noi dobbiamo parlare a degli umani nel senso come noi quindi evitate delle sigle totalmente assurde che stanno bene in un dialogo B2B ma qui assolutamente non hanno nessuna ragione di esistere se trattate viaggi o trattate ceramica non pensate che la gente sia un pozzo di scienza perché quando gli dite che li portate a Salamina o Miconos non abbiate la certezza che questi lo distinguono la Puglia dalla Grecia l'Italia dall'Egitto o quant'altro e se uno mi parla di mi ricordo che quando facevamo una campagna per su Google in questo caso per delle rettifiche meccaniche tubi da rettificare uno dei pochi rettificatori che è rimasto in Torino gli ho detto quali sono le parole quindi rettifiche meccaniche di precisione rettifiche meccaniche Torino e poi mi disse ah beh ma c'è centerless e io gli ho detto ma cazzo è centerless e lui mi fa no ma è un termine che chi meccanico sa che deve ottenere una rettifica di questo tubo sicuramente questa è una parola che io l'ho guardato un po' così e ho fatto una campagna Google sul centerless arrivavano specificatamente richieste proprio ok ma lì era diverso perché sono su un motore di ricerca generalista non ho profilazione alcuna devo cercare il centerless scrivo centerless il primo che mi arriva lo cliccavo noi qui stiamo parlando all'universo mondo non sappiamo che ci sono i 15 milioni o 24 milioni di persone dall'altra parte o i 260 mila della Puglia se la targettizziamo quindi noi non possiamo parlare in una lingua che non sia comprensibile vi prego perché è sempre il prezzo 999 499 399 2 euro e 99 ma non è che gli possiamo dire che c'è un valore aggiunto di un altro tipo di un'altra natura che non sia sempre il prezzo quindi questo modestissimo parere non ritengo che il prezzo sia una discriminante assoluta questo lo dimenticano quasi sempre tutti erano quattro amici al bar in realtà erano all'università e questo sistema era per scambiarsi informazioni per condividere e socializzare mica è nato per vendere mica è ebay cioè se io mi apro una pagina cioè un negozio su ebay non è che lo faccio perché così io e lui diventiamo biondi alti cappelloni no siamo su ebay e per vendere tendenzialmente questo non è nato per vendere che poi adesso possa subire delle derivate però in realtà non è nato per vendere guardate questa immagine che è un po' diversa da quella di prima questo è un tour operator non sono e ares viaggi ah sì ma ma pensate la perfezione di un tramonto maldiviano da una delle waiter village del lily beach maldive leggi di più quindi non compra non prenota leggi di più poi c'è questa splendida ragazza bottiglia di champagne questa roba qua per l'aperitivo il cocktail piscina board cioè capite che di fronte ad un'immagine così ah vi incazzate e quindi ok neanche facciamo il click no? però sotto c'ha 82 mi piace 19 condivisioni quindi c'è qualcuno che si sbatte che poi e qui è veramente mi piacerebbe essere fare la psicologia cioè 19 condivisioni cioè un conto che è quella che tagga o condivide la casa per segnalarla al marito questa che prendono e condividono probabilmente perché condividono taggandolo con 19 condivisioni e 400 in media amici che ognuno noi dia fate 400 per 20 e avete già capito il potere mica sono qui per vendere sono qui per instaurare per cercare di ingabbiare e portare qualcuno da questa parte questo azeta specializzato di genova specializzato in viaggi patagonia argentina i soci sono argentini ha un taglio molto interessante non parla del viaggio parla della località dove ti porterà e introduce il concetto delle frittelle salate tipiche della birmania in questo caso e mette la ricetta quindi ti prende per la gola perché in questo momento gli chef hanno veramente fracassato di tutto e di più no? ok? c'è una sovraesposizione loro lo facevano già prima quindi c'è un'immagine molto bella credetemi queste sono tutte spezie credetemi sua parola e quindi ti portano così al fondo della ricetta cliccando su altro se vuoi scoprire di più sulla birmania o venirla a visitare con noi clicca qui certamente assolutamente no poi c'è proprio quella della fiat la marchetta prendi prova no ok io avessi un ristorante giocherei ad esempio in entrambi i casi butterei pezzi di ricette ma potrei anche dire se stasera vieni i primi dieci che prenotano clicca qui quindi così via la tua dolce metà ha che ne so vino e dolce gratuito questo ad esempio io l'ho sperimentato a San Valentino con con un ristorante della provincia lui ha dato la la gratuità del primo e secondo al alla compagna compagno indistintamente leoni leonesse lui non faceva discriminazioni di nessun tipo praticamente si è fatto un coupon di Groupon su se stesso senza dover delegare a Groupon quant'altro e credo che abbia fatto che poi è andato in sold out a San Valentino ha dovuto replicarlo la sera dopo e ha fatto 150 coperti con un'offerta proprio secca mirata precisa puntuale ma non ha lasciato il 50% su siti stile Groupon come ha soltanto offerto qualcosa e ha ricevuto in cambio questa cosa qua quindi questo è un gioco di sponda come l'altro poi esistono anche invece delle proposte assolutamente mirate quindi social è inutile che ve lo dica aprire o proseguire una relazione quindi non è non è uno solo dei piani di comunicazione questo ad esempio eravamo al No Frill noi a Bergamo io facevo dei post sponsorizzati sulla Lombard generalmente il No Frill è una fiera di zona raccoglie nord-est nord-ovest un pezzo dell'Emilia io spingevo su quell'area lì sull'agenzia di viaggio e ogni giorno facevo no ogni giorno no facevo meno 3 meno 2 meno 1 e il link ti portava al mio seminario per l'iscrizione avendo esagerato un po' nella comunicazione infatti non al No Frill a Bergamo a fine settembre è una fiera di settore ok sul travel avevamo dei seminari questa roba qua meno 3 meno 2 meno 1 aveva il link no ti aspettiamo lo stand le domande più significative verranno pubblicate sul portale e così via qui però siccome le registrazioni erano free ma non dipendevano da noi dipendevano dall'azienda dalla fiera dall'ente fiera però io con questa roba qui avevo esattamente le 70 persone stipate arrampicate sui muri e quant'altro e però ne avevo 70 fuori quindi questa roba qua può darsi che abbia raggiunto un certo loro non avevano posto il limite anche essendo gratuito oltre le 70 questa è una loro gestione noi non potevamo far niente noi che abbiamo sponsorizzato noi stessi da questo punto di vista abbiamo ottenuto un effetto che per carità è sempre bello avere la gente però avere 70 persone in piedi o arrampicate non è proprio il massimo quindi attenzione anche quando si fanno campagne di questo tipo bisogna avere gli strumenti un altro ad esempio è free è gratuito e even bright per la registrazione degli eventi la registrazione delle persone ti tiene sotto controllo perché se tu metti 50 sedie o 30 persone dentro un locale 30 ne registri punto poi il sistema fa 29 28 0 punto ti dice che è finito ok prima di avventurarvi qua sopra rispondete sempre a questa domanda perché cioè che ci sto a fare ok quando vi siete risposti seriamente a questa domanda boh allora come no per farmi vedere non è una risposta assolutamente sufficiente anche perché è tutto da vedere chi ti vede ok quindi se lo siete con strategia obiettivi definiti e un cenno sulla possibilità di promuovere vi rubo ancora 5 minuti questo è un pezzo che ho tenuto quando io vado a fare una promozione di un post quindi vado a pagare perché posso raggiungere posso promuovere in due modi qui dicendo raggiungi le persone a cui piace la tua pagina e i loro amici quindi targettizzo il mio post hai io travel advisor ho 1200 like adesso dopo sei mesi di presenza più o meno costruiti uno a uno proprio qui non si compra niente perché non so comprare like è esattamente come le palle di trip advisor cioè una buffonata proprio ok quindi le persone a cui piace la tua pagina e i loro amici oppure puoi dire fai vedere questo post delle persone da scegliere mediante una targettizzazione che oggi avviene tramite i paesi città ad esempio Bari e a quel punto se metto le città lui mi mi apre un'altra tendina e mi dice Bari 0 miglia 10 miglia 20 miglia 50 miglia quindi un raggio ok perché se l'attività economica è circoscritta il post mi dice vieni in negozio santo Gesù cosa me lo pubblicizzate a Torino che questo deve venire cioè no non ha senso a meno che voi non gli dite che gli regalate un'auto da 20 mila euro allora è un altro discorso secondo me arriva un altro che da Torino l'età il sesso e poi dopo vediamo dopo quali sono altri gli interessi e quant'altro c'è un buon un ottimo livello di profilazione guardate che cosa succede io ho messo io ho messo ho correlato a questo post un'immagine ma siccome questo post sapevo che non lo avrei messo in evidenza perché non me ne fregava niente era un post di contorno cioè prendevo un articolo di terze parti per fare movimento lui mi avvisa già e mi dice che le inserzioni in cui il testo occupa più del 20% dell'immagine potrebbero non essere approvate il potrebbero non essere approvate va letto che nel giro di qualche secondo 30 secondi un minuto un minuto e mezzo loro ti chiudono la pubblicità quindi si tolgono dei soldi avete capito bene ok si tolgono dei soldi il post resta pubblicato sulla pagina e raggiungerà organicamente quelli che deve raggiungere ok però il testo che supera più del 20% è perché dentro il testo ovviamente stava diventando superiore all'immagine perché la gente dentro l'immagine scusami riempiva speciale offerta 50% quindi diventava di nuovo non valente dal loro punto di vista della comunicazione dell'immagine era un'immagine sporca quindi non valente quindi usa un'altra immagine oppure ti mette il link per dire strumento per la convalida del testo quindi entrate dentro uno strumento che vi dice se quell'immagine è consona oppure no ok quindi questi si tolgono dei soldi da questo punto di vista mentre invece se l'immagine è consona io vedi che qua ho detto persone da scegliere mediante la targetizzazione e ho detto questo post glielo fai vedere a gente a gente che ha interessi di travel e leisure ok guardate sotto lui che cosa fa automaticamente mi suggerisce che oltre a travel e leisure mi suggerisce degli interessi comuni come food and wine lo nei planet sì nel travel e leisure sì te la butta dentro vog adesso mi è comparsa vog da non molto e tra parentesi mette vog rivista non gli occhiali quindi sta arrivando cioè il grande fratello se Orwell fosse fosse in vita in questo periodo sarebbe un direttante narrativa di viaggio o travel channel quindi una profilazione sempre più sempre più sempre più spinta e sempre più mirata poi ovviamente potete giocare sull'età o quant'altro sul sul sesso chi è che mi chiedeva i risultati che si possono leggere questo è un post che io ho messo in piedi non mi ricordo su che cos'era ma tanto ormai i miei sono quasi tutti delle pagine sono quasi tutti a pagamento perché quelli che hanno un valore sono obbligato a pagare ho coperto circa 6.500 si spera che siano target raggiunto ho scatenato per 6 euro ho scatenato 46 azioni a me quello che conta è che ho ricevuto 26 click nel frattempo quel post lì è risultato talmente ben fatto che in tre hanno deciso bontaloro di mettere anche like alla pagina quindi e in più mi hanno scritto 10 post like e poi come vedete lui in modo molto subdolo qua sotto mi dice però ne potresti raggiungere ancora un po' di più se mi dai un eurino o due e a un colpo di un eurino o due la sua azione a wall street come sapete che era scesa su quei 10 dollari oggi a 60 io ho degli amici che a 10 dollari ne hanno comprate tante e oggi sorridono diciamo che diciamo che non sono tristi ok ah scusate questo era il post sull'arbonus che poi tra l'altro mi ha fatto 26 click quindi questo qua mi porta traffico al sito se io sul sito questo non era un post perché questo sito non finalizza per vendere perché va a me questo a me la pagina facebook serve per portarmeli a leggere di più il portale punto io lì non ci vendo nulla questa roba qua ovviamente è gradita dal punto di vista di google dopodiché dopo tutto questo ambaradan di 6 7 8 9 mesi dopo vi faccio vedere una cosa sulle ricerche di google che non sappiamo bene se dipenda anche da sicuramente anche da questo non solo da questo ma ha portato quel portale a posizioni impensabili soltanto 7 8 mesi fa io li sponsorizzo anche con 2 euro anche con 3 euro lui ti dice la domanda era con 6 euro hai sponsorizzato un post un post lo sponsorizzi anche con 2 3 4 euro quando vai a sponsorizzarlo con la cifra che tu ritieni di mettere a livello di budget qui l'unica certezza che hai è il budget nel senso che tu sai che se vuoi spendere 40 euro non c'è un centesimo di più sono 40 euro per fortuna ringraziando i dio e tutti i santi del paradiso prima ricevevo fatture fatture insomma pezzi di carta perché loro sono in Irlanda poi c'è tutta la gestione da fare della gestione reverse charge come dicono i commercialisti non ne voglio neanche sentire parlare ricevevo fatture ogni 10 euro 5 euro 20 euro adesso per fortuna non so se mi vedono come un inserzionista diciamo di un bontaloro ricevo le fatture a botte di 100 150 euro quindi ringraziando dio ne ricevo prima era uno stilicidio ricevevo fatture da 5 euro 7 euro si vede che non si fidavano adesso vedono che la carta di credito continua a pagarli e quindi stanno allargando il range mentre invece google se entro il mese a fine mese lui chiude ti manda la fattura di quello che hai speso oppure il raggiungimento dei 300 euro quindi se tu raggiungi 300 euro di spesa dopo 10 giorni lui ti fattura 300 euro e quindi li scala dalla carta di credito loro adesso hanno cambiato anche un pochino dove li posiziona cioè quando noi facciamo il post sponsorizzato quando noi sponsorizziamo un post viene reso evidente sul diario sulla bacheca di chi lo legge invece poi le campagne notizie come funzionano cioè dove vengono sempre nella bacheca cosa sono le campagne allora facendo una campagna facebook che non sia il post sponsorizzato sì ma dunque allora in facebook tu puoi sponsorizzare il sito cioè il link dopo magari lo vediamo un secondo generalmente cioè tutto compare nella timeline del target a cui tu ti sei rivolta dopodiché tu hai quanti mi piace hai fatto l'andamento tutta la gestione della copertura dei post che cosa è successo rispetto alla settimana precedente i dati che chi ti legge adesso lui manda delle mail dicendo che la tua pagina viene letta di più da un pubblico femminile superiore di una certa età e così via quindi come da dire ti suggerisce di fare determinate azioni rispetto a un determinato target eccola qua guarda qui vedi subito no non c'è la copertura no non c'è questi sono dei post è la copertura raggiunta è la copertura raggiunta c'è il coinvolgimento no qui non si riesce a vedere la portata organica rispetto a quella copertura organica a pagamento non la si vede perché l'immagine non riesce a vederla ma la copertura organica è sul 10% quindi se tu hai mille mille like ne raggiungi ne raggiungi mediamente intorno al 10% se non paghi gli altri 9% cioè scusa gli altri 900 ahimè il tuo post non lo vedono questa è un'altra non dico novità ma se voi fate una sponsorizzazione su un sito che non è responsive o che comunque è molto difficile leggere da mobile voi potete decidere che quel post sponsorizzato compaia nella bacheca degli utenti web ma anche degli utenti mobile quindi quelli che navigano facebook da mobile ok lui si accorge che il sito web sembra non essere configurato per gli schermi piccoli la visualizzazione nella sezione notizie di questi dispositivi mobili è disattivata in questo modo non paghi per inserzioni che potrebbero non funzionare cioè questi si tolgono dei soldi pur di non fare brutta figura perché in realtà non sei solo tu che fai brutta figura per farmi leggere una roba illeggibile è anche lo strumento che uno potrebbe dire ma che cagata questo non si legge niente ok quindi bloccano il fatto che tu gli dia dei soldi che non è proprio così banale a luglio hanno annunciato questo ed è in beta negli states c'è un bottone che si chiama buy compra e non lo sappiamo potrebbe essere che si finisce in una pagina di ebay si compreranno ebay faranno loro un ebay cioè buy tu sei uno che può vendere scusa compra io si si certo immagino io ho un telefonino faccio una campagna dico che in queste due ore la targettizzo dico i primi 10 acquirenti 50% di sconto buy non si non si sa se potrebbero interfacciarsi come i channel manager degli hotel dicendo se hai un sito predisposto e soddisfi i nostri prerequisiti di vendita ti portano potrebbero farsi una landing page loro dove magari ti gestiscono la vendita prendendosi le revenue sulla vendita potrebbe succedere di tutto ma stanno sperimentando il bottone compra e che questo signori si 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 no certo arrivi no 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 arrivi su quella pagina dove però finalizzi l'acquisto attenzione devi poter avere un prodotto finito cioè non è un viaggio che devi aggiungere mille pezzi cioè è finalizzato a quelli che possono venderti certamente a ottobre hanno annunciato la pubblicità di quartiere la stanno sperimentando sicuramente negli states sicuramente a San Francisco di sicuro la pubblicità di quartiere è impressionante dal punto di vista potrebbe ricambiare le regole del gioco del negoziante rispetto alla grande distribuzione la pubblicità di quartiere significa che io sono ho il gps attivo quindi ho il localizzatore attivo sono nelle prossimità a parte riceverla perché vengo targettizzato no quindi poi dopo vediamo come ma potrebbe essere che io infatti la pubblicità di quartiere casualmente questa immagine qui è di un mercato rionale io verso mezzogiorno vendo la frutta al 50% di sconto per non portarmela a casa io sono nelle vicinanze ricevo questa notizia probabilmente push e faccio get direction attivo il navigatore e vado al banco del mercato a prendermi la frutta scontata questa roba qui è così perché ci sarà la possibilità di orientare la pubblicità su un un punto sulla mappa e dire siccome sono un negozio che vende frutta e verdura mi allargo per 150 metri immagina certo ma pensa ma pensa un panettiere cioè che tanto cosa te ne fai di quel panettiere ma pensa un verduriere poi quel target lì prima che capisca questa roba qua loro ne hanno già tirati fuori altre volte lui ha già chiuso dieci volte perché noi in Italia poi figurati un film però voglio dire in determinate realtà questo potrebbe dirti riposizionarti sul mercato in tutt'altro modo in scadenza certo oggi Carrefour da noi fa dei banchi frigo col 50% sul materiale scusate sul cibo e non in scadenza nelle 48 ore successive ok quindi magari quegli agnolotti o quant'altro a te vanno bene o quegli yogurt se non ci vai non lo puoi sapere quindi se non sei fisicamente lì non puoi sapere che c'è quell'opportunità lì questa opportunità qui ti arriva un alert se tu sei in macchina che graviti in quella zona sì ma c'è una differenza è che quello là nessuno lo usa saremo in 5 o 6 ci sono io ci sarai tu eh come scusa sì ma vedi per carità ne esisteranno tutti scusa ne esisteranno altri la cosa che se questo signore mette qualcosa sul me il problema è che diventa a disposizione di 26 milioni di italiani punto fine del film dimmi lui arriva a fare punto di pareggio con google no? google plus quindi lo stesso servizio facebook sì no? fa lo stesso servizio che fa google plus e però google ha indicizzato google cioè vince facebook in quel caso eh sì certo ma perché poi qui è tua e la community cioè qui ci sono le persone capisci? qui ci sono le persone gli altri oggi il divario è talmente devastante cioè fa anche non dico paura ma voglio dire è impressionante pensare il potere che lui ha nel mettere in piedi una roba di questo genere che a quel punto sul commercio cioè tu immagina sei passeggi in centro fammi dire da me a Torino in piazza Vittorio no? sei un film a cosa certo se tu tu passeggi in centro non hai idea se tornare a casa o meno e sei su piazza Vittorio sei qui vicino al Petruzzelli sei al teatro stai passeggiando non hai ancora deciso la pericena o quant'altro e ricevi una notizia in tempo reale perché graviti in un coso dove magari dici Coca Cola è dolce in omaggio per la tua compagna ti guardi nelle palle degli occhi questa roba e decidi di andare fare Get Direction e andarti a prendere quella pizza per quello sconto questa roba qui lo puoi fare perché hai una community di persone che sono legate a te in questo modo oltre al fatto che come vedi lo puoi di nuovo orientare quindi tu sei a casa sei in ufficio scopri che quindi nella zona dove tu abiti c'è questa roba qua arriverà in Italia non arriverà dobbiamo assolutamente allora questo è fondamentale se non avete creato un sistema di relazioni se non vi siete diventati credibili se non avete avuto una presenza costante se 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 questo non è uno strumento di vendita ok due esempi andateveli a vedere questo albergo qui che io ho trovato per caso sono anche andato gestito da una famiglia il Pineto Hotel in Trentino credo che abbia tassi di 90% di vendita diretta e 10% proprio perché non può farla avere sulle oltre cioè credo sia uno dei 3 4 5 alberghi in Italia dove lui vende direttamente tramite il sito tramite i social non ha bisogno delle oltre lavora su questi sistemi virali ha preso premi ovunque andatevi a vedere la sua pagina facebook sono due fratelli vanno nel nel parco pubblicano hanno creato un engage tale per cui ormai la gente prenota dal post Nicola stiamo arrivando e lui sotto gli scrive eh sì ciao caro però almeno dimmi quando no andate analizzatelo lavora su ogni tipo di social ha creato proprio un mondo si è creato un mondo parallelo all'interno del suo hotel oggi lui vende disintermediando quasi al 100% è impressionante solo tramite il sito tramite le pagine facebook ha creato un sistema di relazioni pubblica i bambini la nonna che fa lo strudel racconta e quant'altro quasi mai lui vende tramite la pagina social lui lì ha creato un sistema di relazioni si è reso credibile e a quel punto ha creato un motore tale per cui la gente ormai la gente i clienti gli mettono un like a qualunque cagata che lui pubblichi alcuni sì perché lui li chiede lui è un uomo non so quante ore dorme credo mai non credo sia neanche umano Nicola quindi voglio dire perché lo vedi su una montagna da qui da là in cucina quindi una gestione familiare in un posto dove Cristo se non è andato ad Eboli non è andato neanche a Dimaro dove sono loro sono vicino a Marileva vicino alle mele io sono andato casualmente mi hanno invitato per una raccolta delle mele loro sono bravissimi anche a creare del valore aggiunto all'offerta fatevi un giro su questa pagina prima che la spengano perché tanto è macelleria ristorante è un ristorante è una macelleria ristorante a Torino molto caratteristica molto bella purtroppo il nome è macelleria il cognome è ristorante quindi questo avrà qualche ora di vita cliccatelo ha creato un engage anche lui notevolissimo c'è della gente che gli scrive sto arrivando sono in trasferta arrivo stasera e loro rispondono a tutti gli dicono sì ciao caro però ricordati prenota perché stasera siamo pieni stasera siamo pieni stasera stiamo pieni se voi leggete quel post probabilmente quel ristorante dal lunedì alla domenica è pieno dove però lavora con delle immagini sempre un coinvolgimento totale di conseguenza sono arrivate le vendite di conseguenza ok non sono entrati sui social per vendere qui trovate tutti i credit quindi vincos per vedere che cos'era facebook business che tutte sono le pagine e all facebook che è un diciamo così un contenitore di queste informazioni io se volete vi posso aprire tutto però ci cacciano e quindi non però facciamo una cosa con con francesco magari facciamo una replica e la ne facciamo però una parliamo di una cosa domanda no no ma no come 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 gli aeroport dimmi dimmi tutto allora basta chiedere diciamo per pubblicizzare le esperienze chiedere verbalmente le persone se vogliono essere presenti sulle foto o dobbiamo necessariamente ogni volta per ogni persona far firmare la liberatoria gran bella domanda tendenzialmente anzi perché le persone delle volte si scocciano così tanto a firmare la liberatoria che piuttosto dicono no guarda non mi fotografare allora io ti rispondo solo dicendo sono andato alla manifestazione scusa alla manifestazione alla presentazione del Renegade al Motor Village a Torino della Jeep no scusami scusami quella della 500L prima e c'era avevamo dei bimbi a parte noi che firmi per i bimbi ho firmato un chilo di carte per i bambini per gli adulti perché all'interno c'erano delle riprese all'interno c'erano potenzialmente delle interviste all'interno quindi purtroppo se filmi o se fotografi delle persone dovresti chiedergli l'autorizzazione che non deve essere necessariamente verbale perché io faccio la guida da 10 anni purtroppo verbale tu mi insegni che allora finché non succede niente nella privacy il problema non sussiste se trovi qualcuno educato e gentile ti chiede di rimuovere quell'immagine e fin lì tu la rimuovi ovviamente ci mancherebbe altro se trovi quello non tanto educato e non tanto gentile il problema è che non ti chiede te la fa chiedere ti fa denuncia al garante ed è un problema però tipo delle volte possiamo diciamo essere in delle situazioni in cui perdiamo il controllo nel senso che io faccio la guida da 10 anni faccio la guida per turno in sud quello che succede che almeno le foto che io faccio per un po' smollare a meno che non siano amici sono le foto di spalle che però indicano l'attività ma se non c'è il viso il problema non sussiste sì però diciamo visto che mi sono resa conto che negli anni la gente si scoccia queste liberatorie terribili e oltretutto comunque per l'assicurazione non c'è bisogno perché diciamo c'è la mia quello che io chiedo verbalmente è che se non vogliono stare nella foto di gruppo piuttosto di spostarsi che cosa succede che dato l'entusiasmo con il quale ogni volta si torna dall'esperienza noi chiediamo alle persone se hanno voglia di condividere le foto e l'esperienza quindi io posso diciamo controllare le mie azioni ma ci troviamo sugli eventi che facciamo per turno in sud su 50 persone 30 persone che pubblicano le foto e siamo fuori controllo certo ma non è un problema tuo se io vengo con te faccio una foto e pubblico delle persone sul mio profilo ne rispondo io non tu però lo fanno sulla pagina di turno in sud non è comunque un problema perché è personale però è tutto tracciato perché la pubblicazione avviene a mio nome perché sono io che pubblico sulla tua pagina un'immagine quindi una terza parte che si trova coinvolto in quella foto perché voi ovviamente non vi succederà mai ma qui scivoli nel fatto che drammaticamente andatevi a leggere le ultime statistiche serie delle cause dei divorzi in apertura dei social e di whatsapp cioè io potrei potrei aver detto a qualcuno che non ero che non ero avari sì sì certo lo stesso per gli ospiti nei trulli o nei bed and breakfast se loro ci mandano le foto noi li possiamo citare però è sempre meglio far firmare una carta ci togliamo da tutte le responsabilità finché non funzioni scusami finché tutto va bene il problema non sussiste il problema è quando trovi qualcuno che crea queste ok grazie ci ha aperto un mondo grazie